buongiorno a tutti sono andrea pini coordinatore di tale viva certaldo oggi sono vicino a via di nebbiano vicino a comune di monte esperto e vicino a renai ieri sono passato di qui in bicicletta e ho visto che alcuni sciagurati avevano buttato dei rifiuti speciali nel caso specifico dei toner ecco vi inquadro uno che ho visto siccome i toner sono rifiuti speciali un abbandono specialmente una zona bellissima come questa della campagna è una cosa veramente sciocca sono passato quindi all'isola ecologica ho chiesto come si poteva procedere loro mi hanno detto che potevo fare una segnalazione poi successivamente sarebbero intervenuti ma che potevo anche fare io la raccolta e poi portarli da loro direttamente è chiaro che così mi prendevo la responsabilità di farlo e lo faccio perché penso sia giusto che tutti i cittadini in qualche modo curino l'ambiente e per questo in qualche modo diciamo anche quando si trovano dei rifiuti speciali bisogna in qualche modo intervenire collego questo questo evento anche alla battaglia stiamo facendo politicamente per quanto riguarda la plastic tax recentemente noi abbiamo fatto un evento siamo a presente futuro della plastica da cui è venuto fuori che la plastica normale non va demonizzata ma insomma va fatto un'analisi più generale completa che coinvolge sia il riciclo ma soprattutto anche un'educazione per quanto riguarda l'abbandono perché ovviamente l'abbandono della plastica anche di altri rifiuti è l'elemento più critico devo dire che l'italia viva si è comportata molto bene in questo contesto cercando di eliminare la tassa della plastica e volevo fare complimenti a luigi marattin e comunque tutti i parlamentari di italia viva che hanno in qualche modo cercato di portare avanti questa la posizione di eliminazione della plastic tax non è una diciamo vinta non è una vittoria abbiamo raggiunto un compromesso penso bisognerà insistere soprattutto lavorando sull'educazione e sulla conoscenza completa sul tema della plastica che non si risolve ovviamente con una tassa puramente ideologica grazie a tutti ecco questo è il secondo toner abbandonato in questo caso si è anche rotto infatti se vedete qua c'è della polvere che in qualche modo è finita per la strada vabbè ora raccorriamo e lo portiamo all'isola etologica allora contro ordine sono stato via l'isola etologica me l'hanno preso soltanto perché mi hanno fatto un piacere sostanzialmente quando si trova rifiuti speciali bisogna segnalarli e recuperano loro il caso specifico di ieri è che loro pensavano fossero toner di stampanti da casa invece in realtà questa è una toner di stampanti professionali bisogna siano raccolti direttamente dagli operatori autorizzati non dalle persone comunque il problema è questo insomma cerchiamo di affrontarlo in modo osservato grazie